Siamo al Devia Nuova in provincia di Raspesia dove abbiamo assistito a una partita epica dei piccoli eroi del città di San Menevetto che dopo 90 minuti giocati davvero all'arma bianca, così si può dire, hanno eliminato i campioni d'Europa Under 18. Dopo un primo tempo in cui li vedeva sotto di due reti, il secondo tempo davvero magistrale di tutti gli 11, anzi di tutti i 18, compreso il tecnico mister Palanca che abbiamo qui vicino a noi visibilmente commosso dopo la prestazione di oggi e a cui chiediamo un commento sulla gara. In primis intendo ringraziare i miei collaboratori, i miei collaboratori sono stati ingomiabili, in secondo ringrazio i ragazzi che veramente hanno dato dimostrazione non solo di affetto e di attaccamento ai colori sociali. Hanno sposato la mia causa, quella della grinta, dello spirito della benegazione, del rispetto delle regole e della città di San Menevetto del Tronso. Oggi ha esordito un ragazzo del 92 dell'Agraria, ha esordito un ragazzo del 91 del Mariner e con la Fiorentina esordiva qualcuno del Torrione, del Ragnola, insieme ai ragazzi della San Menevetto che devono avere più considerazione. Ha vinto la cura, ha vinto il dodicesimo Womingham, ha vinto il cuore. Grazie a tutti. E sottolineiamo che questa avventura del città di San Menevetto non è ancora finita, signori. Il Messicru diventa lunedì contro udite udite la Fiorentina. Con questo è tutto e vi saluto.